Roma India 9436, Anguillara 2000, rimane in zona Lago per normali, richiamerà lasciando. Ricevuto 9436, 1.500? 2.000 attualmente se è possibile. Ok, un attimo che coordiniamo, però deve inserire la traspondere in modo Charlie. Sono già a Charlie 2000, India 9436. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.